Cesco, come vedi la nostra primavera ed estate dal punto di vista dell'economia? Dal punto di vista economico ho una primavera ed estate un po' particolare, un po' in ripresa, un po' sacrificata, un po' piena di abitudini che dobbiamo fare e adeguamenti vari. Nel senso che comunque dobbiamo convivere con questa situazione senza tralasciare l'inventarci delle novità che poi dipendono a seconda dalle attività. Quindi lì c'è da studiare parecchio, da soffrire con la speranza, in previsione di un recupero immediato, e in previsione anche di aiuti che potrebbero essere una cosa molto importante per le piccole e medie e grandi attività che comunque vivono di alcune cose che verranno a mancare. Ormai la Movida è soltanto sul web, sui social? Per quanto riguarda la Movida mi viene un po' da sorridere, per quanto riguarda la Movida sui social, sì, quello è stato un po' un rifugio per noi che viviamo di queste cose, nel senso che comunque c'è tanta gente che come unico lavoro ha la Movida e allora si è inventata la diretta, il DJ set, l'intrattenimento sui social, che secondo me comunque è una cosa che resterà, una cosa che resterà perché dobbiamo anche adeguarci al momento. Il fatto di stare sui social, come del resto poi sta succedendo anche con le lezioni scolastiche, quindi l'apprendimento e la didattica, sarà tanto riversata sui social. Noi intrattenitori ci siamo inventati e reinventati con DJ set, con delle interviste, ecco magari ci rivolgiamo anche a voi che fate questo lavoro da una vita, il lavoro televisivo, con la facilità del progresso, della tecnologia, con la facilità di fare una diretta, quando magari una volta ci volevano tanti, ma tanti, tanti strumenti. Adesso abbiamo fatto un po' di intrattenimento, ci siamo presi quegli spazi per trascorrere insieme e anche virtualmente stare vicini a quelli del settore per lanciare un messaggio alla gente come per dire noi ci siamo, ci siamo ancora, facciamo e continuiamo a fare quello che facevamo prima. Cambierà qualcosa nel momento in cui le restrizioni saranno più leggere? Mi auguro che qualcosa cambi, però attenzione, non lasciamoci andare, cioè non lasciamoci prendere dall'euforia, non facciamo i tori scatenati che appena aperto il cancello schizzano fuori per far baldore, per far rumore, per, no, bisogna un po' adeguarci, come ho detto prima, adeguarci, ambientarci, convivere con questo virus che purtroppo c'è e ci sarà ancora lungo perché io non vedo luce fino all'arrivo di un vaccino, quindi ci sarà sempre un po' di fobia, ci sarà sempre la paura, il terrore da parte soprattutto delle famiglie che uscendo, ritornando, tra virgolette, alla luce del sole, ritornando, ecco, magari per crotone, su lungomare, ritornata alla classica passeggiata, un po' ci si guarda intorno, un po' si ha il sospetto, chissà quello, chissà quell'altro, chissà quell'altro, allora già il fatto di convivere con una mascherina e un paio di guanti, cosa che prima guardavamo in tv e la Cina lo fa da tanto tempo, magari il nord Italia lo faceva soltanto in momenti di smog, di inquinamento, adesso invece bisogna conviverci giornalmente, quotidianamente, si va a fare la spessa con mascherina e guanti, si devono adottare determinate misure, non bisogna terrorizzarsi, non bisogna aver paura di ciò che c'è fuori, perché magari io con il mio lavoro ho avuto più possibilità di stare all'esterno, vedendo determinati esercizi commerciali, la farmacia, con chi magari guardavo prima negli occhi, guardavo in faccia, adesso coperti, a qualcuno potrebbe far paura, qualcuno potrebbe metterci più tempo ad abituarsi, però ripeto, cerchiamo di andare avanti, col sorriso, continuiamo, affrontiamo quest'altro problema come ne abbiamo affrontati tanti, come tanti problemi di questo tipo hanno affrontato i nostri nonni, i nostri bisnonni e magari anche i nostri genitori da piccolo, quindi non è la prima, è una pandemia, la dobbiamo combattere, dobbiamo uscire vincitori e noi come popolo italiano che siamo bravi in queste cose, riusciremo anche in questa grande impressa uscire vincitori e ritornare più o meno alla vita di prima.